Parlando di console non abbiamo menzionato in alcun modo i piatti, invece parliamo proprio di questo nel prossimo video. Ti direi intanto di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Quale giradischi scegliere? Se per iniziare possono andar bene più o meno tutti, andando avanti con il suonare diventa veramente importante il tipo di oggetto con cui si ha a che fare, sia nello sviluppare la propria manualità, sia proprio nell'affidabilità di cui si ha bisogno in serata. Facciamo in questo video una carrellata dei prodotti principali per quanto riguarda il piatto. Prevetto subito che non sono un esperto perché li ho usati tantissimi anni fa e adesso li uso soltanto per gusto personale, non suono con i vinili, però comunque una certa esperienza ce l'ho e poi mi sono fatto un'idea negli anni anche avendo a che fare con i service. Puoi commentare qua sotto e dire la tua molto volentieri. Prima di tutto il mitico il classico Technics 1200 o 1210. Il prodotto è stato lo standard per tutti i dj che hanno suonato con i vinili in tutto il mondo, assoluto dominatore della scena per tantissimi anni, è sempre lì e è sempre molto valido ed ha continuato per anni, nonostante la sua caduta in disuso diciamo così del vinile, ad essere prodotto nonostante le difficoltà del settore. Ha avuto negli anni un calo costante che ha portato soltanto nel 2010 all'interruzione della produzione, che poi la produzione Technics 1200 è ripartita nel 2018. Niente da dire, è veramente il non plus ultra per quanto riguarda il piatto da dj e ancora è un prodotto molto valido nonostante la tecnologia sia un po' datata. Però attenzione, di quale Technics 1200 si parla? Sinceramente il nuovo a 1000 euro risulta un po' troppo caro per quello che è il prodotto, anche perché negli anni le altre marche non sono state così tanto a guardare e sono venute fuori dei prodotti se vogliamo più performanti. Quello che è in assoluto il vantaggio del Technics è l'affidabilità, che è rimasta intatta nel tempo. La storia parla da sé, però ecco se dovessi prendere un piatto Technics andrei sicuramente su un usato. Attenzione perché l'usato esistono di due tipi, quello che è stato in mano ad un animale e quello che invece ha tenuto il piatto come se fosse un figliolo. Ecco che se si prende un piatto molto usurato nel quale bisogna fare troppi interventi, è evidente che non ne vale la pena. Quindi è bene valutare l'integrità del prodotto. Poi un piatto che può aver avuto la sua usura, ci sono molti tecnici specializzati in grado di rimetterlo a nuovo. Se dovessi prendere un Technics 1.2 o 1.2.10 andrei molto più volentieri su un usato che su un nuovo di produzione più recente con un prezzo veramente alto per quello che è il mercato attuale. Nel periodo in cui Technics è stata ferma, la Pioneer ha creato un piatto sul modello di quello che è se vogliamo un originale che è veramente valido. Il PLX 1000 della Pioneer è senza dubbio un ottimo piatto. L'ho avuto e l'ho visto suonare da persone che veramente hanno una grandissima manualità e devo dire che regge alla grande il confronto con il fratello maggiore se vogliamo così. Chi dice ah su questi non ci suono così a prescindere non sa di cosa si parla e questo lo posso garantire con assoluta certezza. E ovviamente non è lo stesso prodotto, ci possono essere dei gusti personali che ne fanno preferire l'uno all'altro ma si può dire che siamo sullo stesso piano, sullo stesso livello. Jesse Jeff lo conosciamo tutti, è un grandissimo DJ, soprattutto uno di quelli che ha insegnato al mondo a screcciare, che sostiene che se mi vendi non so riconoscere l'uno dall'altro. Ora, a nord del vero bisogna dire che Jesse Jeff è sponsorizzato da Pioneer, però posso dire che io che ho visto suonare Jesse Jeff in un evento dell'Ade ad Amsterdam, onestamente questi piatti li sa usare e come. E non credo che un DJ di nome soltanto per soldi andrebbe in giro associato ad un prodotto di scarsa qualità. Non ho sinceramente nessun esempio di questo tipo, di conseguenza diciamo che ci si può fidare e quindi ad un prezzo e comunque molto più competitivo di un Technics nuovo, un Pioneer 1000 è sicuramente un ottimo piatto. Negli anni comunque la tecnologia e la meccanica è andata molto avanti. Un altro prodotto di cui ho sentito parlare bene è il piatto audio tecnica del modello OEM. Anche in questo caso si tratta di un prodotto molto dinamico, ad un ottimo prezzo, che regge comunque il confronto. Io personalmente lo metto uno scalino sotto ma è soltanto mettiamo un po' di gusto e anche quel tocco nostalgico che ha il Technics rispetto agli altri, perché secondo altri invece a livello di prestazioni il Technics è stato superato da questi modelli più nuovi. Anche audio tecnica OEM è un il Vestax. Il Vestax l'ho visto suonare dal DJ di Movi nel lontano 2004, anche lì periodo in cui la Technics era in declino e anche quello mi sento di consigliarlo come prodotto di ottima qualità. Ultimo ma non meno importante è il Reloop. Reloop deve essere una marca di livello piuttosto basso. Negli anni si è organizzata, è molto migliorata come qualità dei prodotti e se vogliamo al suo punto d'eccellenza proprio nel piatto. Un piatto che esce nuovo sui 450 circa che a detta di molti vale la pena rispetto anche ai nomi più blasonati. Ecco che mi sento di inserire queste cinque marche modelli come quelli che sono lo standard ottimale per i piatti da DJ. Altre marche sinceramente mi sento di sconsigliarle. A detta di chi ha una certa esperienza manualità non regge il confronto, non è preciso e affidabile sul pitch. E poi assolutamente da sconsigliare qualsiasi tipo di piatto serve per riversare il disco in mp3. Ok, quello è un altro tipo di funzione può essere buono dal punto di vista del digitalizzare il proprio catalogo, però se ci deve andare a suonare in serata sinceramente non saprei da che parte rifarmi. Questo perché nel piatto avendo bisogno di sviluppare e portare avanti la manualità nel quale quindi la componentistica meccanica, il braccetto, il torque eccetera, ha bisogno di una cura particolare e di una affidabilità importante, ecco quindi che andrei sul sicuro nella scelta del prodotto. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continuo a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.